Riccardo Polizzi Carbonelli, tutto sulla moglie Marina Lorenzi. Riccardo Polizzi Carbonelli è un attore famoso in Italia, soprattutto per il suo ruolo di un posto al sole. Questo lavoro l'ha reso particolarmente famoso ed in tanti, quindi, si fanno delle domande, sulla sua vita privata. Come ha confermato lui stesso, da tempo Riccardo è felicemente sposato, con Marina Lorenzi. Quest'ultima è un'attrice proprio come suo marito. Diplomata presso l'Istituto Nazionale del Dramma Antico, la recitazione è sempre stata una delle sue grandi passioni. In teatro ha esordito nei Sette Re di Roma, uno spettacolo che l'ha vista affiancare attori, del calibro di Gigi Proietti. Da quel momento in poi la sua carriera è decollata, ed ha lavorato anche con altri attori molto famosi, come Vittorio Gassman. Al cinema ha avuto diversi successi, ed ha recitato in un prodotto di Federico Fellini, diventando molto nota anche ai cinefili. Successivamente Marina Lorenzi si è fatta conoscere, anche dal piccolo schermo e dal pubblico delle fiction. Infatti alcuni la ricorderanno per i suoi ruoli, in La squadra e distretto di polizia. Ad oggi la Lorenzi è meno presente, ma continua a praticare la sua grande passione, soprattutto a teatro. Si tratta, ovviamente, di un aspetto che condivide con il marito Riccardo, che considera l'arte altrettanto importante, nella sua vita. Riccardo Polizzi Carbonelli e Marina Lorenzi, sono una coppia molto solida, nel mondo della recitazione. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2002, e da subito hanno iniziato a frequentarsi, anche grazie alle loro passioni in comune. Successivamente hanno deciso di sposarsi, ed il matrimonio è avvenuto quattro anni dopo, nell'aprile del 2006. I due non hanno mai avuto problemi, e sono sempre stati una coppia a dir poco solida. Ciò nonostante sono piuttosto riservati, e preferiscono non far parlare di sé, infatti difficilmente hanno anche evitato, di rilasciare interviste parlando l'uno dell'altra. La coppia non ha mai avuto figli o, se li ha avuti, non ha fatto sapere ufficialmente nulla, forse per tenere lontani eventuali ragazzi, dal mondo dello spettacolo e del gossip. Riccardo Polizzi Carbonelli ha dichiarato, nel corso di un'intervista, che tra i suoi più grandi sogni attualmente, c'è quello di riuscire a lavorare in televisione, o al cinema con la moglie. Nonostante facciano lo stesso lavoro, non hanno avuto la possibilità di recitare insieme, ma ora vorrebbero farlo, considerando anche il loro rapporto così stretto. Voi che cosa ne pensate? Conoscevate già questa coppia, e vi piacciono questi due attori oppure no? A voi i commenti! Grazie per la visione!